gentili telespettatori buona giornata su tutto questo trambusto che c'è nella politica interviene anche forza italia con il portavoce di berlusconi che dice basta esami per meloni e salvini ma forza italia è il centro e la garanzia la garanzia il centro vediamo che cosa ci racconta tagliani il bicchiere è mezzo pieno anzi è pieno quasi per intero per antonio tagliani salvini parla con orba nelle penne per un gruppo di destra destra chiamiamolo così in europa un gruppo che andrebbe alla destra di meloni dice ma meloni non è già la destra sono i conservatori e se anche salvini vuole fare il capo di qualcosa in europa allora si vuole si sta inventando un gruppetto di tre partiti per essere anche lui dice la meloni è capo dei conservatori anch'io sono capo di un partito beh insomma abbiamo imparato a conoscere matteo salvini e i suoi modi di agire vuole fare anche lui il capetto in europa e comunque dice tagliani una evoluzione rispetto al passato uscire da identità e democrazia il raggruppamento dell'ultra destra europea lasciare fuori tedeschi di afd è già un passo avanti importante per la rega e così tagliani non vuole si creino delle divisioni con l'alleato leghista tanto più dopo il chiarimento il patto di ferro con berlusconi rinnovato nell'ultimo vertice allora tagliani sostiene berlusconi perché berlusconi vuole andare al quirinale ha bisogno di salvini quindi tagliani sta molto attento a criticare salvini perché rovina i piani del suo datore di lavoro e così dice lavora perché lo schieramento si presenti unito ai prossimi appuntamenti alle elezioni certo ma anche nel momento della scelta del prossimo presidente della repubblica è lì che è lì il discorso a berlusconi interessa solo quello italiani che deve difendere berlusconi punta sempre il dito su quello dice poi aggiunge che sperando che sia berlusconi e auguerandosi che mario draghi resti al suo posto senza di lui senza draghi cadrebbe il governo nessuno oggi se non draghi è in grado di guidare un esecutivo di unità nazionale salvini dice che non ha alcuna intenzione di entrare nel ppe come gli suggerisce invece giorgetti e tagliani diceva è un momento non posso ne voglio entrare nelle dinamiche interne di un altro partito è un dibattito che riguarda loro riguarda loro però riguarda anche la coalizione visto che salvini ne parla da leader e dice che si batterà contro un centrodestra asservito alla sinistra per riportarlo ad essere orgogliosamente conservatore liberale rivoluzionario e costruttivo in italia in europa quindi salvini vuole cerca di parlare dal leader di centro del centrodestra leadership che lui non ha mai esercitato in questi anni che lui era capo del primo partito d'italia primo partito nel centrodestra ha sempre fatto e parlato come capo della lega non si non ha mai fatto e non ha mai parlato a nome del centrodestra adesso che non lo è più cerca di parlare a nome del centrodestra tagliani dice che c'è un livello europeo nazionale che è poi quello che più interessa i nostri elettori che ci chiedono cosa faremo su tasse lavoro sviluppo ambiente e non in quale gruppo ci scriviamo a bruxelles comunque non si tratta di essere asserviti a chi che sia in europa ma di muoversi in un parlamento eletto con il proporzionale dove è necessario fare accordi per contare la famosa maggioranza ursula si è formata per impedire al socialista timmermans di guidare la commissione per eleggere appunto la von der leyen moss che si è rivelata vincente viste le decisioni ma è quindi la posizione di salvini ma è capo di un partito alleato a voi si considera leader della coalizione potrebbe creare problemi in europa al centrodestra dice ma no è inutile continuare a chiedere alla lega di sottoporsi ad esami come facciamo in italia ci aspettiamo scelte opportune da salvini ma è un fatto che lui che né lui né la meloni parlano più di tale exit o si mostrano euroscettici o antidemocratici poi è vero che noi di forza italia siamo in una posizione diversa siamo il centro del centrodestra che ambisce a recuperare consensi nel non voto e a crescere noi siamo la forza che ha più forte legame con bruxelles e washington siamo la garanzia di europeismo e atlantismo del centrodestra beh quali sarebbero secondo tagliani perché non so se avete sentito ha detto che né meloni né salvini parlano più di uscire dall'europa non sono più euroscettici o antidemocratici antidemocratici in che senso meloni e salvini sono antidemocratici se sono contro la democrazia questa mi è nuova è questo ruolo di garanzia del centrodestra anche a livello internazionale e ciò che vi fa pensare che berlusconi alle carte in regola per andare al quirinale chiede il giornalista a tagliani che lui risponde certamente sì ma non si è candidato è il mio sogno che diventi presidente il fatto che oggi se ne parli come di un'ipotesi pienamente in campo ci dice quanto la sua leadership la sua presenza sia importante nella politica italiana il centrodestra avrà un suo candidato ma oggi è davvero prematuro parlarne ma insomma prematuro berlusconi è da mesi che cerca chi lo vota ha già detto a salvini e meloni mi raccomando votatemi quindi altro che prematuro tagliani ma che cacchio dici beh giorgetti spera che draghi vada al quirinale e continua a dare l'indirizzo al governo con un semipresidenzialismo di fatto tagliani dice no in italia non esiste il semipresidenzialismo noi siamo non siamo in francia se draghi andasse al quirinale il governo cadrebbe perché la sua personalità è l'unica in grado di tenere in piedi un governo di unità nazionale non possiamo permetterci avventure la pandemia non è stata ancora sconfitta la ripresa economica è ancora più di rimbalzo che strutturale eccetera eccetera ebbene che draghi resti com'è poi dice siamo per il mantenimento del sistema maggioritario la forza italia è compatta su questo ci sono poi i temi sui quali possiamo sicuramente fare battaglia insieme anche a fratelli d'italia dal taglio delle tasse al super bonus edilizio alle modifiche al reddito di cittadinanza la concorrenza ma una cosa è certa noi di forza italia non voteremo mai contro il governo non voteremo mai bisogna vedere il governo cosa fa e cosa dice perché non voteremo mai che significa non voteremo mai contro il governo se il governo fa delle cose incorrette si vota contro il governo che significa a prescindere dire qualsiasi cosa faccia draghi noi non votiamo contro e allora che è un dittatore che ave cesare qualsiasi cosa fa noi siamo con lui ma che che ma che risposta è questa questa è la risposta di un portavoce non di un capo politico ma di un portavoce di quello che ripete quello che berlusconi vuole raccontare oggi domani dopodomani questa è la differenza tra un politico e un portavoce arrivederci a tutti e grazie